No? E allora, facciamoci sentire! E che vorresti fare, Mattia? Una rivolta? È quello che ci vorrebbe! Ma ci massacreranno! Questo non lo possiamo permettere, Pietro. Giacomo ha ragione, dobbiamo andare da sacerdoti del tempio nel Sinedrio e dirgli che saremo obbedienti. Tu che ne pensi, Pietro? Sei tu che devi decidere. Arriva qualcuno, chi può essere? Giovanni! È Giovanni! Giovanni, sei qui? Finalmente!